La spada che cambierà il mondo? Solo colui che possiede il set di roto potrà ambirci. Cerca nelle profondità del tuo cuore. Muoviti cazzo! Devo smettere di fare questi sogni? Non capisco. Ho tutto il set di roto completo. Alla prossima. Sì, questo è un mio bravo. Ma bravo, bravo? Perché mi servono bravo. Bravissimo. Ma il caldo lo fa il caldo. E così nessuno mi riconosce. Ma noi ci siamo già visti? No, ero il mio collega in un altro video. Mi dicevi di questo sogno. Tu cosa speri di trovare? E questo è il punto. Non posso desiderare qualcosa che non esiste. Non è che per cercare le tue profondità si intendeva proprio la cantina? Naaaa! Naaaa! È impossibile! Naaaa! La cantina era così semplice. Sono così semplice. Vabbè che non sono capace a montare i video, ma la musichetta sono capace a mettercela almeno. La spada che cambierà in mente. Spero che l'incipit vi sia piaciuto, vi sia stato il vostro gradimento, è una cosa un po' diversa ma che vi sono divertito a fare. E passiamo direttamente all'unboxing vero, praticamente. Allora, guardate come è lunga. Guardate, guardate. È lunga come la spada di Link a altezza 1 a 1. La spada per eccellenza è la Master Sword, ma questa è appena uscita, fa parte del set di Roto. Quella che avete visto nel video era praticamente la vecchia spada di Roto del set di Roto con lo scudo d'Ermole ed era più o meno lunga così. Questa è la spada di Roto a grandezza 1 a 1. Arrivo direttamente dal Giappone. Avevo messo già qualche foto sulla pagina Facebook che ha visto la lista. Guardate. E' veramente... facciamo un'ingolatura stretta. Guardate com'è grossa, com'è la vera spada di Roto 1 a 1. So che in Italia non ci sono tantissimi fan di Dragon Quest, ma a me piace veramente tantissimo. E guardate che bello. È veramente splendida. Poi anche il porta spada direi che ha il suo perché. L'avevo vista in Giappone quando ero andato a lui da Sbar. Era in Veneta, ma ne avevamo finita e non si potevano vendere. L'ho dovuta ordinare. Ed è veramente, veramente, veramente un bel pet. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che la nuova videocamera vi sia piaciuta, che ha anche gli infrarossi. E al prossimo video. Dai, Perry. Sempre nuova di video. Iscriviti al canale. Alla prossima. Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.